La normativa regionale è molto restrittiva per ciò che riguarda l'ambito sportivo, ovvero tutti gli ambienti sportivi dove viene effettuata attività agonistica e non, devono essere presidiati da un defibrillatore e da personale che abbia effettuato un corso abilitante all'uso del defibrillatore. Con 800 defibrillatori e 30.000 persone formate per il loro utilizzo, la provincia di Arezzo è la più cardioprotetta d'Italia, due le palestre annesse ai plessi scolastici che ancora non avevano questa importante dotazione. Un dato emerso grazie ad uno studio congiunto tra provincia, Proveditorato e 118. Adesso i due istituti, l'omnicomprensivo Guido Marcelli di Fogliano della Chiana e il Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano, hanno il defibrillatore grazie ad un finanziamento di Estra e provincia di Arezzo. Grazie a Estra, grazie alla provincia, grazie al nostro lavoro siamo riusciti quindi a completare questo ITER, a far sì che tutta la provincia sia cardioprotetta da un punto di vista di palestre e questo ci permette quindi di sopperire e di essere in regola alla legge regionale che è la 68 2015. Allora la legge nazionale e la legge regionale ancora non prevedono un obbligo in ambito scolastico o in altri ambiti, questo rappresenta diciamo una limitazione, però devo dire che la nostra provincia su questo è molto sensibile, quindi posso assicurare che abbiamo un 98% delle scuole con defibrillatore. Siamo circa 300-350 arresti cardiaci ma abbiamo una percentuale di sopravvivenza che supera il 35% quindi considerando che si pratta di vite umane è un numero importante.